Allora Pierlu, fantastico, qui siamo sulla ventitresima, stiamo andando giù verso Soco e ti voglio far vedere questo particolare immobile, chiamiamolo così, che si chiama Flat Row, ovvero ferro da stiro, ferro da stiro perché aveva questa sua particolarità che tutto intorno aveva questi tombini, da dove quando passava la metropolitana si alzava una colonna di aria calda e spesso e volentieri i ragazzi venivano qui a vedere le ragazze che passavano in gonna e che praticamente questo soffio d'aria alzava, così da mostrare le pudenda Pierlu, va bene? Una delle più tipiche immagini di questa storia che ti sto raccontando e quella di Marilyn Monroe quando lì si alza la gonna. Il nome esatto di questo palazzo è Flat Iron, cioè ferro piatto, ferro piatto appunto da ferro da stiro, Flat Iron, sulla ventitresima. Quindi considera intorno a questo palazzo chiamato o ferro da stiro o prua di nave che sembrava entrasse verso il centro di Manhattan, c'era appunto questa particolarità che tutto intorno c'erano questi tombini dove usciva quest'aria calda, dove passavano le metropolitane. E quindi siamo qua, Pierlu, al ferro da stiro, cosa che so ti piace tanto. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Music never lies.